Se posso mandare un appello, l'unico appello che posso mandare, che possa essere utile questa esperienza, facciamo rete attorno alle persone sole, perché veramente nell'ultimo periodo sono sempre di più i casi di solitudine, gente che si porta dentro, traumi che non emergono se non quando sfociano in questi casi di violenza. Possa servire a ridurre la solitudine, la deriva di chi rimane solo quello che è accaduto a lei. Ospite a prima edizione l'avvocatessa opitergina Mary Zorza, coltellata il 24 aprile nel suo studio da un cliente che si è poi tolto la vita, si appella alle realtà istituzionali e sociali di ogni livello. Occorre stare accanto a chi, come il 53enne Giuseppe Silvestrini, si ritrova da solo con un fardello troppo pesante da portare, come la cura dei due fratelli disabili. Si commuove Mary di fronte alle immagini del funerale. Io spero che questo possa essere, almeno questo, di aiuto per coloro che, per quelle comunità che hanno, e ce ne sono tantissime perché nel mio lavoro ne vedo tanti, comunità che hanno questi casi. Alle esequie del suo aggressore ha preferito non essere presente. Ci sarei tanto voluto andare, nel senso che era giusto, sarebbe stato giusto anche per me vederlo lì, ma in realtà era il suo addio e quindi andava bene così, non ci dovevano essere giustamente clamori attorno a quel funerale. La mano fasciata, un nervo reciso che difficilmente recupererà la professionista, ancora non è tornata al lavoro e per adesso preferisce non farlo. In terapia da uno psicoterapeuta risponde così quando le si domanda come stia ora. Non posso dire di stare bene perché, a parte le ferite fisiche che comunque si sentono, il ricordo, la presenza della violenza che ho subito è quotidiana, costante, in ogni momento della giornata. Era convinta di morire Mary quella mattina, lo sentiva chiaramente. Quella doveva essere la mia morte. Lei pensava di morire in quel momento? Sì, sicuramente sì, quella era la morte, però non morivo. Io dicevo ok, sto morendo, ma non morivo. E anche lì probabilmente è stato incapace di uccidere. Incapace di farlo, anche se la sua volontà, dice l'avvocatessa, era quella, senza un motivo scatenante, aggiunge. Non c'era niente di, si è scritto tanto, ma non c'era una vicenda giudiziale, era solo una pratica amministrativa da risolvere ed era stata pure risolta. Perché pochi giorni prima aveva firmato. Ma quei mostri che sono usciti quel weekend erano probabilmente imprevedibili. Non mi capacito ancora un giorno, forse una risposta ce l'avrò.